Chiara Valle, conclusi i festeggiamenti in onore della Madonna della Pietra con il trio Revival Dancing Parting. E' toccato al trio Revival Dancing Parting concludere i festeggiamenti civili in onore di Maria Santissima della Pietra. Il trio ha lietato la serata lunedì 19 agosto con un repertorio composto da alcuni tra i brani più belli della musica leggera italiana. Le due ragazze, Serena e Denise, con le loro voci semplicemente fantastiche, hanno divertito i presenti facendoli vivere i bei momenti passati. Un viaggio musicale per molti presenti indimenticabile. Due voci calde e sensuali, graffianti, che non si sono certamente risparmiate. Le due ragazze con grinta e professionalità hanno dimostrato tutta la loro bravura, ad accompagnarle alla tastiera e al coro con bravura Armando. Il pubblico ha saputo apprezzare e ha accompagnato spesso, battendo le mani al ritmo, le canzoni. Al prossimo episodio Sì 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 Sì, sì, sì. 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 Sì, sì.